In questo video parleremo di paralleli e meridiani, e di latitudine e longitudine. Seguici! Se osservi un planisfero o un globo terrestre, puoi notare un intreccio di linee. Si tratta del reticolo geografico, che serve a individuare un punto sulla superficie terrestre. In pratica, il reticolo geografico funziona come nel gioco degli scacchi o come nella battaglia navale, dove una coppia di indicazioni è sufficiente per individuare in modo assoluto qualsiasi punto sul tabellone. Il reticolo geografico è composto da linee immaginarie. Le linee che si sviluppano in orizzontale si chiamano paralleli, perché di fatto sono paralleli al piano dell'equatore. L'equatore è il parallelo che si trova esattamente a metà tra i due poli, ed è considerato il parallelo di riferimento, detto anche parallelo zero. L'equatore divide in modo immaginario la Terra in due emisferi. L'emisfero nord, detto anche emisfero boreale, perché nelle regioni più settentrionali di questo emisfero si verifica lo spettacolare fenomeno delle aurore boreali, e l'emisfero sud, detto anche emisfero australe, perché in questo emisfero si trova l'Australia, la terra dei canguri e dei koala. La latitudine è la coordinata geografica espressa in gradi che indica la distanza di un qualsiasi luogo della Terra rispetto all'equatore, identificato convenzionalmente con zero gradi. Le latitudini a nord dell'equatore salgono numericamente da 0 a 90 gradi, fino a che non raggiungono il polo nord, mentre quelle a sud dell'equatore diminuiscono da 0 a meno 90 gradi, fino al polo sud. Talora, però, i numeri negativi possono essere indicati anche con numeri positivi, ma specificando sempre la dicitura sud. Ma il reticolo geografico è composto anche dai meridiani, linee immaginarie verticali che partono da un polo e raggiungono l'altro, dividendo il globo terrestre in spicchi. Il meridiano principale, detto anche meridiano zero, è altressi noto come il meridiano di Greenwich, perché passa per l'osservatorio astronomico di Londra, che prende il nome dal quartiere in cui si trova, Greenwich appunto. Questa linea immaginaria divide la Terra nell'emisfero ovest e nell'emisfero est. La longitudine è la coordinata geografica espressa in gradi che indica la distanza di un qualsiasi luogo della Terra rispetto al meridiano zero o meridiano di Greenwich. Le longitudini ad est del meridiano di Greenwich salgono numericamente da 0 a 180 gradi, mentre quelle ad ovest del meridiano di Greenwich diminuiscono da 0 a meno 180 gradi. Talora però, i numeri negativi possono essere indicati anche con numeri positivi, ma specificando sempre la dicitura ovest. E ora individuiamo vari luoghi sulla Terra usando le coordinate geografiche che abbiamo appena imparato. Queste, ad esempio, sono le coordinate del Thai Mahal in India. Ricorda che si indica sempre prima la latitudine e poi la longitudine. Quale misterioso luogo si troverà alle coordinate 30-31? Devi individuare una latitudine di 30 gradi e una longitudine di 31 gradi e vedere dove queste due linee immaginarie si incontrano. Nella grande piramide di Giza, in Egitto. E quale altro luogo si troverà alle coordinate meno 3-59? Una latitudine di meno 3 gradi e una longitudine di meno 59 gradi si incontrano nella foresta amazzonica. Tutto chiaro? Provaci anche tu! Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.